Il sistema delle crociere guarda Taranto con grande interesse. I numeri del 2023 mostrano un particolare appeal dei turisti con questa parte di mondo, baciata dalla natura e dalla storia nonostante le offese dell'industrializzazione massiva e non controllata. Il porto di Taranto si prepara alla nuova stagione croceristica 2024. Il calendario delle toccate nello scalo ionico vedrà animarsi le banchine dal 17 aprile al 9 ottobre. Conferme e novità per le compagnie in arrivo nello scalo ionico tra le nuove che si alterneranno in porto Torna Costa, Marella Cruisis, Tui Cruisism and Chief, Nobel Caledonia, P&O Cruisis, mentre per la sua prima volta Azamara, Oceania Cruisis, Seedream Yacht Club, The Ritz Carlton Yacht Collection. E inaugurare la stagione sarà proprio una delle nuove, la Zamara Cruisis con la Maiden Call della Zamara Pursuit. 16 le toccate domenicali di Costa Fascinosa dal 9 giugno con la possibilità per i passeggeri nazionali e internazionali di Costa Crociere di effettuare imbarco e sbarco dal nostro porto. Ma non bisogna cullarsi sui risultati positivi, bisogna decidere per esempio cosa fare del centro falanto e se può diventare sede sicuramente più idonea come Terminal Crociere o come dicono dalle parti della Global Sports Holding, la società che si occupa dell'accoglienza dei croceristi, se ha bisogno di interventi di ampliamento. E tutto ciò fa parte dell'interlocuzione in atto con l'autorità di sistema del porto di Taranto. Poi la città deve attrezzarsi. Gli sbarchi quest'anno della costa si effettueranno di domenica e quindi negozi aperti e creatività sulle escursioni da offrire saranno indispensabili.